Riserva di Di Maria, David Neres diventa un obiettivo del Napoli e vuole giocare nel club italiano. Il precampionato del calcio europeo continua a svolgersi, con i club alla ricerca di acquisti importanti per l'inizio della stagione 2024-25, nella missione di lottare ai vertici dei campionati. E una delle squadre che cerca di tornare alla gloria è il Napoli, che ha il nuovo comandante Antonio Conte. Con una riformulazione generale della Rosa, il club italiano è alla ricerca di nuovi nomi e, secondo le informazioni del quotidiano portoghese Record, intende ingaggiare il brasiliano David Neres, riserva del Benfica. Il giocatore ha un contratto con gli Encarnados fino a fine giugno 2027, ma al momento la sua partenza è ben valutata. Secondo il Corriere dello Sport, David Neres avrebbe già espresso il desiderio di giocare nel Napoli e chiesto il trasferimento, non avendo intenzione di vivere all'ombra di Di Maria. Per lui il Benfica chiede una ventina di milioni di euro. Per lui il corraggio 1P